ragazzi buona domenica buon primo maggio e benvenuti in questo nuovo episodio di uscire dall'ailo hell allora mi hanno bannato sia zed che a zir quindi c'ero proprio con l'acqua la gola perché volevo giocare l'uno o l'altro e avremo un platform free lol qual è il problema quindi visto che avevo contro diana è un team con parecchi cc se devo essere sincero mi son detto prendo malzar perché comunque mazzar mi faccio la roa la liondry e comunque riesco a a mitigare un po i danni che mi farà diana e comunque se arrivo in late game abbastanza forte poi farò dei danni non dovrebbero sottarmi il problema è che abbiamo pantheon che pantheon di pantheon fa cagare a meno che lo snowballi un po ma che si snobola comunque cagare unlucky unlucky mancava l'ultimo atto allora contro diana ho anche sberato summer avrei dovuto prendere il tp o al limite l'exhaust perché ovun con mid perché ovun con mid per qual motivo vabbè fa niente fa niente insomma non però parecchi coglione e devo rivedere le mie strategie non la roma e la farò per forza quindi diana è top contro pantheon quanto non deve stravincere sicuramente sono soppati perché v come non voleva perché v come non voleva voleva pantheon inizia a farne un po di danno altrimenti addio questo qua se mi fa uno link con la e la fu mi fa parecchio mare voglio di norma alzare dovrebbe uscire però oliver jungle contro questi due sarebbe un casino se mi prendesse per noi da me li faccio lui penso che si faccia l'ex drink e poi spero che non sia scemo vieni vieni fantasmino ragnetto ora pulso un po o no spero non ci sia volide come ritornargli un po di danno altrimenti non è work plan e vabbè una prozione di una prossima parte non è già recalato altro sta perdendo l'1 v1 contro di contro diana mamma mia la vedo veramente brutta troppo una flash io ho paura di uscire anche se è quello che dovrei fare a me rilassa un sacco il suono di il suono della e di malta rilassa troppo troppo bello però che non la cambino con rework 17 milioni un po pochini devo stare attento qua perché ora sicuramente appena avrà il 5 in sera a rompermi ok io gli ho ritornato un bel po di danno però ora sono senza mano ora vediamo che sta scena un po 6 se mi arriva vuole vuole che sono una merda o all exhaust e lui il tipi e silenzio scusate o il barriere lui il tt quindi va bene avrei voluto usare l'ignite avessi avuto l'ignite sarebbe stato abbastanza semplice ora ucciderlo sinceramente ma vuole dire troppo dovrei tentare di tradarlo quando il il bacarozzo perfetto ok sto dicendo dovrei tentare di tradarlo quando il il minion a terra già già vaxato perché gli faccio un sacco di danni quasi avesse avuto l'ignite lui al tt quindi ora io uscio qua in fretta ma non ancora l'ai amassato come ce l'ho tra il tt per tornare ora di no cazzo però torno ma non ho no non torno non torno perché non ho l'oggetto ora non push perché voglio aspettare di arrivare al 1200 anzi più di 1200 all'holla quindi comproviare anche qualche poxa buonissima gene luke si è preso ok vuole andarsi giù pesante cosa buona perché ora io ho l'ulti e lui non può ingaggiarmi cioè può perché sa che non è umana però poi io faccio così ok quello dovrà gustarsi da solo bene bellissimo mettiamo questo e me ne vado bene gli ho anche attaccato alla malattia facciamo mazza fa un sacco di danni a un sacco di danni è un po pussi all'inizio perché non ha un early game bellissimo meno che non c'è troppo aggressivo aggressivi prende prende tutte quante le spell e soprattutto tutte quante le per ora però non ho formato ma è bellissimo 39 ora inizio da pushare ora che c'ho il catalyst mi sento un po più sicuro potrebbe andare ancora pieno io da me ma non voglio prenderti tu c'è una pozza io devo stare appunto voliti perché adesso è un momento che arriverà sicuramente a gancano visto che anche lui è anche al 6 quindi me la gioco un pochino fino a qui SS ah ok ho guardato me la gioco un pochino pussi ok ora iniziamo a tappare l'ebola in giro SS ma penso che sia andato al blu ora pushare e farmare diventa abbastanza safe no andro top ragazzi dimmi che non hai visto per favore io posso pushare un pochino ma non mi rivolgo ma c'è di buono che lui ha perso esperienza e ha perso minion facendo quella rotation inutile quindi approfittiamolo dovrebbe morire ho sempre uno sguardo in giro perché se poi Oliver mi arriva addosso sono cazzino Pantheon ecco forse potevo anche non flashare Pantheon un pochino in ritardo non dovevo flashare ho sbagliato mi sono fatto prendere dal panico ma è vero non avrei dovuto flashare oh però l'ho mancato ora ora visto che Oliver è venuto da qui è la piccola devo iniziare a ad attaccarli lei non sono troppo rilassati le skill di ma ma c'è il suono delle skill di Maltheon ma a me rilassano troppo ok mi sarebbe il blu e forse mi conviene andare da Pantheon è una free kill no penso che se la faccia da solo a posto 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 ss avveruto thunderbolt care book se comunque si prende qualche kill ma cazzo in giro poi sono fatti pezzi miei ok minchiai minion minchiai minion minchiai minion minchiai minion 63 e 99 minuti po merda eh po merda po merda ok colta una pink me la prendo ecco lo sapevo no no double kill no per favore double kill no ah usa dtp ok quindi la mss se la vado no dpv cazzo ult se hai voltato li vado in anche se io non ho ignite l'ha voltato ok quindi per non mi ricordo quanto sia il cd dell'ulti di cosa ora ora qua pusho forte ss ora me ne vado volevo guardate due due cose volevo buttarla sotto torre e buttarla toccato ok diana è qui sta prendendo tempo quindi pantheon dovrebbe è ancora qui bene questo va benissimo e tu sei morta non so perché ho usato il bar potevo anche risparmiarlo vabbè never mind io avrei bisogno di un paio di milioni ancora per la roa ma rischio e faccio solo così così dovrebbe andare da solo dovrebbe teoricamente andato perfetto da solo è bello formare senza fare niente che un bambino o madonna lo oh madonna no 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 tra chi il bot no però perché il bot no loro sono tutti vabbè non tutti a te c'è diana c'è diana io però mi faccio la landry perché poi vi era bisogno di essere buttato giù la scise l'indri e poi per sovattarabolo direttamente dopo ardan da balzerà dei danni di base veramente 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 alto preso spero ma può che anche lei arriverà 300 la e già 320 è una con la roba posso iniziare a spammare per due scritte ma non ne ho direi che posso iniziare a aggancare ma avevano ancora l'ultimo ora io vado qua ecco una finita qui così se avete voluto da quel lato non si prendete solo longsword ho capito l'andazzo vuoi farti completamente full ad no mollami vediamo che sta prendendo troppo chiede vabbè non troppo chiede 2 4 sta facendo una nascia ovviamente top non può farsi abissa buona drago paura di volibir non l'ho visto in giro paura di volibir lo sapevo lo sapevo manco a dirlo manco a dirlo manco a dirlo era qua manco a dirlo cazzo che allati che sono ora di volibir boom eccolo qua l'ho anche ultato male a parte che ho dovuto ultare sul rapporto volibir minchia poi ho fatto un flash super napo proprio non dovrebbe averla passiva no ce l'ha però passivo non passiva c'è morte ok can i top a bit panteon o che stanno a fobo però hanno fatto le prime due chi bene ora usiamo 31 c'è un gran male dov'è la mia bestiolina mi sono sopporto con giana perché giana è un po più semplice per me e comunque dovrebbe essere sempre fatto però porca troia minchia non avere il tt mi sta sta penalizzando un sacco io lo volevo vale che sta arrivando volibir buona meno male che panteon sta sta roccheggiando ora di anno non ci è dovuta giusta torre devo mettere il pressure meet pressure meet ora volibir non dovrebbero prendere i coglioni ok ok la torre è andata perfetto questo qua vogliamo prendere prendo 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 vorrei mettere le scarpe però forse vado direttamente di maschera no mettiamo le scarpe e poi vado di maschera anche il relay non è un brutto item con lui visto che le prime tre skill non hanno nessun tipo di cc che slow e o slow che slow e quindi il relay dovrebbe essere rip ma perché fate così? perché fate così? no il flash il flash hukong bot ma dai ma come ha fatto? ha usato il tp comunque minchia perché non mi ascoltano? io non ho il tp non posso farci nulla io non posso farci nulla perché ho sbagliato a mettere il fottuto barrier mi sta penalizzando tantissimo non avere il tp loro l'hanno doppio loro hanno doppio dp l'unica cosa che in late magari mi avvantaggerà un pochino a avere il barrier ora tipo questo momento morto bene questo qua ti vorrei pensare che sia andato forse no è andato se vai ma quando taxpid hai? ma il devoro a sto stronzo ma che sfiga minchia raga che sfiga serve un mascherone ma cosa hai ottenuto Gin da quello? perché stai ingaggiando perlomeno ora non ha il tp io devo far qualcosa però devo aiutarli ma male che genio no vabbè no vabbè ma vabbè ok fa niente oddio 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 uuuuuu mi è servito il barrier mi è servito il barrier ora ora sono fortunato di averlo messo sono contento di averla messa ok torno maschera prima maschera prima maschera poi mi prendo il blu ho formato poco però l'azzar dovrebbe farmare tantissimo ma proprio tantissimo quanto ne ho posito le kill 9-3 non dobbiamo prolungarla troppo però quanto un po' io e c'è la scritta defeat tipo a 30 minuti vedo cazzo c'è un drago da fare ora io pusho mid c'è un drago andato eh no è andato è andato è andato è incontestabile che mutiera trappiento qua oddio lucia stava stava morendo da solo bene i danni inizio a farli non ho avuto paura adottarlo perché perché c'era Wukong cioè mi jumpava addosso sto facendo una cosa giusta ok stavo dicendo che ho avuto paura ad ultarlo perché lì Wukong bastava che venisse addosso di E con ulti mi interrompeva la mia e se se lucia tipo aveva non so un eal o un flash no beh il flash no ma se aveva tipo un eal si resta nella merda quindi ho fatto per un essere greedy ora Wukong è top quindi io pusho la myth così anche se ok quello è morto però nessuno perfetto ora pusho un po' e tiro giù la torre world ok 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 torniamo indietro ora devo avere una maschera la roba ce l'ho staccata al massimo e ora iniziamo a metterci danni seri iniziamo a metterci il Rabadon 2k3 di vita quindi sono abbastanza tempi non troppo però comunque non dovrei resistere a un all in di chiunque chiaramente a parte di via no beh forse anche di diana stavo pensando di rimetterla a vista però hanno solo diana p che tra l'altro sta facendo cagare ho sprecato molti ho sprecato molti però ho visto leona mi sono preso male non è questi ce la fanno la fanno ok ehi i flash piovono ginulta non ce l'ha no io no eh sti cazzo questo respiro ragazzi ho un team con le mani non ci credo meglio dell'ultimo già stamattina ne ho persa una modo brutto no vogliamo vogliamo andando via per un po' questi campetti ho bisogno di un po' di gold ho bisogno di un po' di gold per la ma la needless day vado top no top push non avrebbe senso ecco mi ping una mid ulti tra 25 non so se riesco a difenderla no ho anche poca vita ma forse ce la faccio devo stare attento a cazzo cazzo non posso far nulla raga senza ulti sono un po' inutili c'è qua però vedo che vorrei essere un casino oh faccio venire con la tua cazzo non let them baron eh io come faccio posso stopparlo non penso che se lo fanno no lui se ne top lui se ne top che c'è una wave enorme non penso che voglio che se lo fanno da solo forse si perchè no stavo pensando che aveva il devorer lui che dall'altro non è ancora completato fatevi vedere un po' 23 stack a 24 minuti merda ok ora ora con un all-in shot ho anche buco però devo farlo l'all-in penso che è sciotto anche lei eh no qual'è il problema oh bene è una malattia guardate che male che vi faccio che danni che danni mi arriva lo scudo attaccato eh quanto è stupido ma alza però anche se non ha escape per la build che si fa è abbastanza un pic sicuro perchè comunque è sempre utile uno stun di due secondi e mezzo a meno che non lo interrompi è davvero utile voglio stare a te dove vado infatti dovremmo stare top qua in mid si infatti non capisco perchè siamo mid dovremmo andare in una facciamoci il baron perchè siamo mid però no non ha senso stare mid vabbè questa volta che ha senso nooo me l'ha interrotta che schialachi cazzo me l'ha interrotta con se l'ha interrotta con la sua ulti fall io trago voglio il blu mi sento un po' inutile sinceramente ha fatto tutto l'oro no lascialo a me lascialo a me oh ok posso ritollare sta arrivando le ore oh anche il ludo non è no no bravo bravo ho bisogno di danni danni seri sono a 366 il problema è che qua tutti mi possono interrompere mi può interrompere voli un po' troppo le ore un po' troppo le diana sono luce e non può eh si prendi non ti piace prendi non ti piace oh oh cos'è oh qua state le camera fissa nooo oh però notate come da quando da quando Gino ha detto a a Brom di levarsi dai coglioni abbiamo iniziato a a vincere strano anche che non abbia evitato lui non gli avete qualcosa allora qua non è una buona cosa no 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 è rischioso troppo rischioso non ha senso presentare di rubare un buff magari morire in due e perché Ginevide? va bene effettivamente non è ricomparsa però pantone dai 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 l'ultimo colpo la volubile facciamo un danno della Madonna quello è morto l'ammazzo io con la E l'ho ammazzato io con la E non ho fatto niente io ho preso due kill facendo un cazzo non mi ricordo le prime due ma questa cosa non ho fatto niente se l'ho cliccato E e direi che abbiamo più no no vieni stavolta stavolta sto cazzo mi sa che ci muori che all'acchio una donna vabbè che culo che culo ne vado perché non ho l'ulto tornando che culo che culo vabbè vabbè non ho ancora abbastanza danno mi sento il rapido però non sono 22 anni di essere una sola maschera assolutamente potevo venire sciottato molto molte più volte e flash o vaffanculo meglio bruciare un flash che per tentare di morire che tentare di morire quando c'è il baron up ah 1600 1700 però manca manchetto tu sarai sarai al caso mio ma però ho 0 cd forse un po' di cd potevo mettere per fare doppia e che gioco ora qua poi c'è due secondi se magari mi aspettano vi prego aspettate mi fatemi mettere il ravadon wait me please ok ora il ravadon vado top da quella nono no ah adesso abbiamo abbastanza danni 462 che quanti, guardate quanti danni fa Malzar, guardate guardate quanti cazzo di danni, e questo qua al 10% non è da stavolutare è tantissimo allora io non ulterò il carry, ulterò il primo che mi capita perchè tanto il tempo che arrivo al carry mi arrivo tutti addosso mi saltano tutti addosso quindi non avrebbe senso ulto proprio il primo che mi tipo questa perfetto questa era la prima mamma mia oh mio dio penso che sono sempre più felice di aver messo l'aria mi sta salvando mi stava salvando un sacco di volte un po' che è morto? si sono morti tutti, sono verona quindi inutile cesare Però Quanto non sta finendo da solo GGVP GGVP No GGVP Ma mi è andato bene questo game Non mi ha giocato benissimo Perché cazzo Volevo all Ignite Vabbè ragazzi Spero che questo video domenicale vi sia piaciuto Ci vediamo al prossimo Io oggi sono al MOBA Ve l'ho già chiesto se qualcuno c'era Ma a quanto pare nessuno è di quelle parti O nessuno ci va Quindi niente Ciao ciao